Il Cile e il Cilento accomunati dalla lotta a salvaguardia delle risorse naturali. A Sapri, sabato scorso, c'è stata la proiezione del docufilm Luccio le perra a lanterne che ha posto di nuovo in risalto la battaglia del territorio contro il metanodotto SNAM. Il Cile e il Cilento, così lontani e così vicini, due comunità ai margini dove le risorse naturali di primaria importanza vengono messe a rischio dalle grandi multinazionali, attraverso lo sfruttamento privato dell'acqua nel Cile e attraverso la realizzazione del maxigasdotto della SNAM nel Cilento. A proporre con coraggio e ambizione questo parallelismo è stata sabato scorso l'associazione culturale di Vibonati, la casa di Pitagora, che presso l'auditorium Sapresi ha proiettato il docufilm di Stefano e Mario Martone, Luccio le per lanterne. Il film dei due registi napoletani affronta tra passato e presente il tema delle speculazioni economiche ed energetiche delle multinazionali, tra cui l'italiana Enel, nella Patagonia cilena in Sud America e porta all'attenzione del pubblico il tema dell'autodeterminazione delle comunità locali dei vari sud del mondo, che parte proprio dal libero accesso alle risorse primarie, come l'acqua e la terra, che garantiscono il sostentamento dei popoli. La proiezione della pellicola è stata seguita da un dibattito con uno dei registi, Stefano Martone, con cui sono stati toccati i temi scottanti dell'accesso pubblico alle risorse naturali e energetiche e al pericolo analogo, questa volta tutto cilentano, rappresentato dal metanodotto Silain Tirrenica, che andrebbe a toccare le coste, fiumi, boschi e monti del Basso Cilento. Un confronto interessante attuale, quello proposto sabato, che rientra nelle attività culturali e formative dell'Ateneo Nomade Triangolare, fondato nel 2012 presso il casale Il Sughero di Vibonati, dal titolare della struttura Medeo Trizze e dal docente universitario Pasquale Persico. Non è la prima volta che riflessioni profonde, che partono dall'ambiente, dalle risorse naturali e che puntano alla valorizzazione del territorio, si dipanano da quest'Ateneo e dal sodalizio tra Trizze e Persico. In questa occasione, al centro dell'attenzione, sono state le lotte dei sud a salvaguardia del patrimonio ambientale, le scelte in materia energetica, il ruolo delle popolazioni di questi territori, che si pongono come eccezioni, resistenze, sopravvivenze.